9 settembre 2022 ci troviamo al teatro sociale di Amelia presso il festival Madre Terra Sorrelle Stelle, un festival tutto dedicato all'ecologia integrale, all'astronomia e allo spazio. E siamo in compagnia con Suor Francesca, giusto dico bene, e tra poco inizierà una tavola rotonda molto particolare dal titolo Ecologia integrale, una biodiversità di voci. Perché Suor Francesca è così importante dibattere su questi argomenti al giorno d'oggi? Ma credo che siano argomenti che richiedono un'urgenza, quindi un'urgenza di pensiero, quindi di riflessione che ci coinvolga e anche di azione, su cui però tante volte sentiamo anche voci diverse o voci non credibili, voci anche che ci fanno pensare che la nostra azione possa essere poco incisiva. Ecco, per cui forse continuare ad ascoltare anche voci diverse, parere diverse può aiutarci a crescere nella responsabilità rispetto a questi temi. In particolare questa mattina ci siamo occupati delle città, quindi abbiamo ascoltato testimonianze di chi ha fatto una scelta civica, quindi di impegnarsi politicamente verso città che siano sostenibilmente migliori. Oggi, pomeriggio invece ci mettiamo in ascolto di alcuni docenti della Pontificia dell'Università Antoniano, che è un'organizzazione che di fatto proprio ci ha messo la faccia nell'interrogarsi rispetto a questi temi dell'ecologia integrale. Grazie, sono Francesca per questa bravissima anticipazione e buon lavoro a tutti. Grazie.